Fighissimo! Dove siamo Pimpy? A Londra E dove? Non lo so, ci sono le due torri, come si chiama? Tower, Dobble, Bridge e... No, Tower, Bridge e Bust Tower, Bridge e Bust, è finissimo E là che cosa c'è, Flippi? Dove? La dove però in questo momento non si viene molto La torri di Londra Il castello con le torri di tutti i nomi E che succede alle 11.30 Dentro quel castellino C'è il camion della guardia Ma noi non lo possiamo vedere Perché siamo poveri Si, troppi Gran Bretagna Non lo so quanto vuoi assegnare la regina Però, troppi Gran Bretagna La metropolitana costa 6 Gran Bretagna Per ora ci compriamo il jeans d'ombi Stance C'è quando è in draccio Non lo so... Non lo so, non lo so. E' in questo modo Non lo so, non lo so Non lo so, è senza